Dunque voglio fare un piccolo omaggio alla grande farista Amalia Rodriguez che oggi 6 ottobre fa 20 anni della sua morte questa grande signora che per il nostro paese ha fatto veramente tanto voglio fare un piccolo omaggio a quel suo fado, Fado Amalia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti